20 cantieri aperti, 35 milioni di euro di finanziamenti da fondi PNRR. Entra nel vivo la stagione forse più intensa della storia di Arezzo in fatto di lavori pubblici con i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il volto della città sarà indubbiamente cambiato in molte sue parti, dalle scuole alla ex Cadorna fino alle piazze. Da tenere ben presenti i tempi che, come sappiamo in fatto di PNRR, andranno rigorosamente rispettati. Allora, noi abbiamo una scadenza ora imminente, che è quella di settembre, in cui dovremo aver completato il 30% delle opere, dovranno essere già proprio rendicontate. La prima scadenza era quella dell'assegnazione della firma dei contratti, che era luglio 2023, che è stata mantenuta e quindi stiamo portando avanti quelli che sono in parte già ultimati, in parte già attivati e in parte partiranno a marzo-aprile i nuovi cantieri. Non solo grandi opere, però i cittadini chiedono insistentemente che ad Arezzo sia risolto il problema buche sul manto stradale, ormai diventato quasi una barzelletta. Assessore, allora, bene parlare del PNRR, sicuramente il Comune di Arezzo sta facendo un grande lavoro, abbiamo capito che insomma da ruolino di marcia ci siamo. Ecco, ma gli aretini spesso volentieri ci segnalano queste benedette buche. Vero è che in questi giorni sta piovendo, però non è stato un inverno particolarmente piovoso, molti sostengono. Sì, il problema delle buche, ovvia, della manutenzione in generale delle nostre strade è un problema ricorrente che purtroppo tutti gli anni ci evidenza quello che è lo stato attuale delle nostre strade. Sinceramente e oggettivamente ci sono specialmente le viabilità principali, quelle che ritengono che abbiano più criticità, che sono oggetto di nuova manutenzione. Noi partiremo a aprile indicativamente con due strade principali che sono via Tarlati e via Trento-Trieste che saranno completamente rimesse a nuove, quindi una manutenzione straordinaria che riguarderà sia la parte di sottofondo che è la parte principale, sia la parte di tappetino che poi è il tappetino di usura dove passano le auto e dove nascono anche le buche. Ci sono altre viabilità che secondo me dovranno essere portate avanti, che una fra tutte è via Calamandrei, che è la strada per eccellenza, insomma, di ingresso nella nostra città e questa è oggetto già di progettazione, stiamo valutando il tipo di intervento da fare e quindi cercheremo di dare una risposta in questi termini, in questa annualità. Quindi la prenda come una battuta, i fondi del PNRR non si potevano usare per le buche? Io dico magari perché purtroppo non possono essere utilizzati, riguardavano altri tipi di interventi, mentre invece la manutenzione delle strade, che credo sia un oggetto anche particolarmente importante per i nostri cittadini, deve essere purtroppo finanziato solo da fondi diretti del Comune. Grazie.